Sono stato premiato per la categoria ristrutturazione residenziale per la ristrutturazione energetica di una villetta anni 70 levata di cortatone. È un progetto nel quale abbiamo portato allo standard Casa Clima classe A una villetta appunto degli anni 70 che è stata ristrutturata integralmente. La particolarità di questo intervento è che sono stati utilizzati principalmente materiali di origine naturale, quindi sughero tostato per il cappotto, isolamenti interni in fibra di legno ed altri materiali come per esempio il parquet che è un parquet particolare con trattamento a solo con oli naturali di origine vegetale, pitture di origine vegetale anche per le pareti, gesso fibra per le partizioni interne. Abbiamo realizzato quindi un cappotto da 18 cm in sughero come ho detto prima, isolamenti interni dove non era possibile lavorare dall'esterno, quindi per quanto riguarda i soffitti verso i sottotetti non riscaldati o la parte mansardata. Dal punto di vista impiantistico è stato implementato un impianto ad aria, quindi con ventilazione meccanica controllata, batteria di post trattamento dell'aria e ventilconvettori in ambiente per coprire i picchi estivi o invernali quando necessari.